La bilancia c'è una luna interessante per tutto il giorno potremmo dire, sia in mattinata quando transita nel segno dello scorpione che vi fa preferire la compagnia dei vostri parenti, dei vostri cari, delle persone che amate e poi nel corso del pomeriggio quando diventerete addirittura più spigliati, più allegri, più disponibili anche verso nuove conoscenze. I rapporti sociali saranno fondamentali nel corso della serata perché vi permetteranno di vivere dei momenti allegri e spensierati. Per il segno dello scorpione...